Musica Prima le ha rubato la bici, poi le ha sfidata a riprendersela ed infine, dopo essersi fatto seguire, la portata in un luogo appartato e la ha violentata. È successo giovedì sera ad Arezzo, in un parco nei pressi di Via Curina, all'interno di un tranquillo quartiere residenziale alle porte del centro storico Aretino. I ragazzi, la mattina, tutti, certo la notte mi ha visto, non lo so. L'aggressore, un 56enne clandestino di origine marocchina, con precedenti per piccolo spaccio ed altri reati, è così finito in manette. A denunciare la violenza subita ai carabinieri la stessa vittima, una trentenne, il giorno successivo. La giovane è stata così inviata all'ospedale San Donato di Arezzo e sottoposta alle cure del codice rosa che hanno confermato segni di violenza. Io non avevo mai sentito dire niente di tutto questo. Chiaramente anche Arezzo è diventata che, insomma, non è più la zona tranquilla che era. Per l'uomo le manette sono scattate lo scorso sabato. A fornire elementi utili ai militari dell'arma è stata la stessa vittima. Grazie alla sua descrizione, infatti, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Arezzo sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore. Il provvedimento di fermo è stato preso dal PM Giulia Maggiore che coordina le indagini. Il 56enne è stato fermato nella stessa zona dove si sarebbe consumata la violenza. La versione fornita dall'aggressore sarebbe totalmente opposta a quella della trentenne. L'uomo, infatti, ha parlato di un rapporto sessuale consenziente. Potrebbe intanto già svolgersi oggi l'udienza di convalida del fermo di fronte al GIP del Tribunale di Arezzo Piergiorgio Ponticelli.